Musica Attenzione al mal di schiena, un'allerta per tutti, per quelli di noi più sportivi, i meno sportivi, quelli poco sportivi, ma anche per quelli per nulla sportivi. La lombalgia è il mal di schiena che colpisce più frequentemente un individuo nel corso della sua vita, il 40%, oltre i 25 anni, ed è una delle ragioni più comuni per cui i pazienti richiedono cure mediche. È la settima tra le malattie in ordine di frequenza, ma è la prima tra le motivazioni di assenza dal lavoro nelle persone al di sotto dei 45 anni di età. Anche atleti e sportivi in genere non sono esenti da dolori della schiena, spesso determinati proprio dal tipo di attività sportiva. Mentre vedete i ragazzini con gli zainetti alle spalle che spesso sono imputati di causare, certamente non malattie gravi, però dolori di schiena sì. La lombalgia infatti per gli sportivi rappresenta più del 10-15% di tutte le lesioni sportive che incorrono a livello agonistico. Insomma qualcuno dice che non esiste uno sport che in assoluto fa bene alla schiena, ma quando inizia il mal di schiena? Cosa lo scatena? In quali sport in particolare? Con quali gesti? Quando e perché insorge anche nei bambini e nei ragazzi? Perché è importante, per esempio, soprattutto per loro, la visita medica specialistica? Cosa è e perché è importante la cosiddetta core stability, l'equilibrio ottimale tra parte superiore e parte inferiore del corpo? E con quali esercizi si consegue, sia per i grandi che per i piccoli? Tutti quesiti fondamentali per sapere quali sport, da agonisti oppure da semplici amatori, possono innescare il mal di schiena fino ad arrivare all'assunto, che forse potrebbe non esserci proprio uno sport che sia salutare alla schiena e che addirittura ci sono quelli che diventano complici della lombalgia. Per esempio, se si pratica il golf, il tennis, il rugby, il sci, è rischioso lanciarsi in uno di questi sport se non si è a posto fisicamente. Questi tre quali però solo uno specialista può risponderci con cognizione di causa e risentiamo questo primo passaggio con Francesco Forte, medico fisiato del gruppo Forte. Io comincierei col dire che in ogni caso fare un'attività sportiva fa bene al mal di schiena, a chi soffre di mal di schiena. Ormai è stato visto che chi pratica un'attività sportiva soffre meno di mal di schiena rispetto a chi non la pratica. Mi piace infatti sempre ripetere una frase che poi ritroviamo in calcio alla mia mail, una frase del padre della medicina, di Ippocrate, che diceva se riuscissimo a trovare la giusta dose di nutrimento e di esercizio fisico da somministrare ad una persona avremmo trovato la strada per la salute. Quindi già 400 anni prima di Cristo lui poneva l'attenzione sia sulla nutrizione che sull'attività fisica. Ma a volte l'attività fisica, se fatta in maniera sbagliata, e alcuni tipi di attività fisiche possono essere molto dannosi per la corona vertebrale. In questa immagine stiamo vedendo il gesto dello swing del golf. Il golf è uno sport a me molto caro che ho iniziato a praticare da un po' di tempo e al contrario di quel che si pensa non è affatto un'attività riposante o facile da effettuare. Il gesto dello swing, che è quello con cui si colpisce la pallina, è un gesto incentrato essenzialmente in rotazioni forzate associate poi ad un'iperestensione, che generalmente è un tipo di movimento che determina una sollecitazione abnorme della colonna vertebrale. Pensiamo che durante una gara a 18 buche il golfista compie centinaia e centinaia di movimenti per prendere la pallina, perché poi ci sono anche le prove che va a fare. Per cui è importante avere un'adeguata preparazione, come vedremo più avanti, di determinati gruppi muscolari e soprattutto avere una certa flestibilità. In ogni caso poi è importante la posizione, quindi la conoscenza del gesto tecnico che si va a compiere, perché lì sta la difficoltà. La posizione delle gambe, i piedi. La posizione delle gambe, i piedi devono essere ben centrati a terra e il baricentro deve essere al centro tra i due piedi. Un altro sport spesso incriminato di determinare patologie a carico della colonna vertebrale è il tennis, anche questo è uno sport molto bello. Un tempo si riteneva che fosse anche responsabile di patologie a carico della colonna vertebrale nei bambini, come la scoliosi, ma è stato visto che non è così come tutti gli altri sport asimmetrici. Mentre i tennisti professionisti, chi pratica tennis a un certo livello, purtroppo soffre spesso di mal di schiena. Ne è un esempio lo stesso Nadal, che ha sofferto molte volte, purtroppo è rimasto lontano dai campi per problemi non solo di epicondilite, di comito del tennista, ma anche per problematica della colonna vertebrale. Anche qui la schiena è molto sollecitata. Sì, perché il gesto principale del tennis, a parte il dritto, per esempio nella battuta che viene provata molte volte, si ha un'iperestensione accompagnata da un'iperflessione forzata e una rotazione forzata. Sono tutti movimenti che determinano quindi delle rotazioni, la colonna vertebrale si comporta come un perno e quindi tutte le strutture che la compongono vanno in sofferenza, a partire dai dischi intervertebrali, terminando poi con le articolari posteriori. Un altro sport molto traumatico, ma molto bello a mio avviso, che in Italia si sta rispondendo sempre di più, il rugby, che generalmente il meccanismo lesivo è diverso, è legato soprattutto a un contatto fisico. Anche quando si viene placcati. Quando si viene placcati, generalmente diciamo che il contatto fisico nel rugby e nel football americano è un po' l'essenza di questo tipo di sport, che a mio avviso è uno sport, nonostante sembra essere violento, è uno sport però molto nobile a dispetto di altre discipline sportive, molto più conoscibili. È uno scontro terribile. E in seguito a questi scontri è frequente che si manifestino delle lesioni anche osse a carico della colonna vertebrale. Tra l'altro la colonna vertebrale di un rugbyista o di un futbolista va incontro più frequentemente rispetto ad altri a fenomeni degenerativi, meno sono gli interessamenti a carico del disco intervertebrale, quindi fondamentalmente ernie discali e protruzioni discali. È chiaro che in questi tipi di sport vengono interessate anche altre articolazioni, vengono traumatizzate, in particolar modo il ginocchio, il ginocchio e la caviglia. Dove si fanno esercizi di preparazione? È chiaro che fondamentale è la preparazione fisica prima di affrontare una qualsiasi disciplina. Abbiamo detto che bisogna innanzitutto conoscere il gesto atletico e poi bisogna prepararsi a un tipo di attività, perché poi le nostre strutture anatomiche vanno in sofferenza quando non sono pronte e quando non conoscono quel tipo di movimento che fondamentalmente non abbiamo mai fatto. Quindi è fondamentale fare una serie di esercizi cosiddetti proprio scettivi, spesso vengono fatti su delle tavolette instabili, su superfici instabili, che fanno sì che si vada un po' a ripetere il gesto tecnico che poi lo sportivo andrà a effettuare in campo. Così come ad esempio nel golf è importante che il golfista infortunato esegua il gesto dello swing più volte anche in palestra, proprio come esercizio, in modo da immagazzinare a livello della corteccia cerebrale quel tipo di movimento. E la stessa cosa può avvenire nello sci. Molto utilizzate sono delle tavolette instabili, come abbiamo detto, delle tavolette proprio scettive, e un po' tutte le nazionali di sci fanno un'ora di questo tipo di esercizi proprio scettivi e poi tutto il resto degli esercizi. Qui sempre ginocchia e schiera. Ginocchia e schiera. Se vogliamo parlare un po' degli sport invernali, anche essi molto belli, sci e snowboard sono delle discipline che per il fatto delle vibrazioni costanti che è sottoposta alla colonna e per i balzi e i salti che spesso si hanno, specialmente in chi pratica questo tipo di attività, la colonna vertebrale può andare in sofferenza. In questo caso le patologie più frequenti sono a carico del disco intervertebrale, discopatie, protruzioni, fino ad arrivare ad ernie di scali veri e propri. Ecco, quindi come avete sentito, la lombalgia e il mal di schiena può insorgere per un gesto sportivo al quale magari non ci si è adeguatamente preparati, ma può avere anche altre origini, ad esempio può dipendere dalla postura, un tema a noi caro sul quale torniamo spesso con i fisiatri fratelli Forte. La postura è quella posizione del nostro corpo in piedi o seduti o al lavoro o anche nelle attività sportive, molto importante per prevenire i dolori reumatici. Sulla importanza della postura ne sentiamo ancora questo secondo passaggio con Forte. Dobbiamo insegnare ai nostri pazienti come muovere il proprio corpo nello spazio, come sapere orientare il corpo nello spazio, che se non siamo in grado di farlo non saremo in grado di effettuare nessuna attività sportiva. Fondamentalmente quando poi ci troviamo di fronte ad un paziente che pratica un'attività sportiva e che soffre di un mal di schiena, noi possiamo trovarci in due situazioni. Un paziente che non ha delle anomalie posturali e quindi il problema è legato solo a un sovraccarico e un paziente che ha già delle problematiche intrinseche. Quindi una scoliosi, un dorso curvo, una dismetria del bacino, in caso mai un'eterometria legata a una differenza di lunghezza degli arti inferiori e a volte anche pochi millimetri di differenza di lunghezza possono essere responsabili di una sintomatologia dolorosa costante. La postura è una cosa che noi trascuriamo, è vero? Sì. Cioè torna sempre a... Perché fondamentalmente è il fondamento del trattamento del mal di schiena. Sì, qui nelle immagini stiamo vedendo una serie di esercizetti, una serie di cose che un operatore sta facendo vedere ai bambini perché è importante... Ecco perché è importante... Ecco questa è una posizione sbagliata questa, cioè un po'... Sì, perché fondamentalmente viene persa la lordosi lombare e viene accentuata la cifosi dorsale. È chiaro che per un bambino che si trova a scuola mantenere una posizione corretta per 5 ore di seguito è piuttosto improbabile. Ma fare un po' di educazione posturale anche nelle scuole sarebbe una cosa importante, è una cosa che noi spesso abbiamo fatto e soprattutto fare anche un'attività di prevenzione e di screening nell'individuare i soggetti a rischio per patologie della colonna vertebrale. Quindi fare attenzione alla postura e... come dire... ci fa stare meglio... Certo non è comodo perché è più comodo assumere posizioni scorrette. È chiaro, a tutti piace buttarsi sul divano in una certa posizione, i nostri figli sono sempre con un telefonino, con un ipad piegati in avanti. Non ne parliamo, sì certo. E questo, il nostro obiettivo deve essere quello di aumentare, di invogliare soprattutto i più giovani a praticare attività sportive. Qualsiasi attività sportiva, a mio avviso, spesso le mamme dei bambini che vengono a far visita per problematiche riscoliose e se mi chiedono quale sia l'attività sportiva più utile da fare, io rispondo semplicemente che possono fare qualsiasi tipo di attività sportiva, nella maggior parte dei casi. L'importante è che la facciano, è chiaro che ci sono alcune limitazioni in alcuni casi. Anche correre, nel correre è importante la postura? Certo, perché questa è una cosa che dovrebbe essere insegnata nei bambini nelle scuole, e che viene fatta, quindi nelle ore di educazione. Alzare le braccia aiuta, è vero, a mantenere... A mantenere la colonna più dritta, ma soprattutto ha insegnato ai ragazzi quando si corre che esistono dei movimenti accompagnatori, oscillatori delle braccia. Le braccia non devono essere lasciate a pensoloni perché in quel modo andiamo ad aiutare il gesto sportivo della corsa, che tra l'altro è un'attività molto praticata, molto semplice da praticare, e che non è vero poi tra l'altro che la corsa provoca il mal di schiena. Questo stiamo parlando di. E concludiamo questo remake che stiamo riattualizzando con voi in diretta, con la core stability, letteralmente la stabilità del centro, quella parte tra il torso superiore e quello inferiore del nostro corpo, che è il segmento strategico del corpo, quello che va tenuto in forma con appositi esercizi per fare poi al meglio tutti gli altri sport. Il gruppo della core stability comprende spalle, pettorali, addominali. La core stability infatti mira a raggiungere l'obiettivo di forza e stabilità di tutto il corpo, ma in particolare della muscolatura del corpo, cioè pancia, fianchi e lombi. Con gli esercizi della core stability si allena tutto il muscolo addominale, gli obliqui interni ed esterni, il retto, il trasverso, inoltre il pavimento pelvico. Con l'allenamento si ottiene un controllo ottimale su questa fascia del corpo e il benessere di tutta la muscolatura. Quindi, come dicevamo, la core stability è utile per tutti gli sport, sia per quelli che li praticano agonisticamente, sia per gli amatori che però vogliono dal loro corpo qualcosa in più. E sulla sua importanza sentiamo ancora in quest'ultimo passaggio breve il dottor Forte. La core stability è un'attività molto, molto importante, molto utile. Che cosa si intende innanzitutto per core? È una varola che nasce nei paesi anglosassoni. Il core si definisce quel cilindro che si trova, un cilindro fatto di muscoli ovviamente, che si trova tra il torace e il bacino. Fondamentalmente è formato da una parete anteriore fatta da tutti i muscoli addominali, non solo il retto addominale ma i trasversi, gli obliqui, dai muscoli posteriori della colonna vertebrale, quindi il multifido, l'erettore della colonna, e poi dal pavimento pelvico in basso e dal diaframma sopra. E sono quei gruppi muscolari che garantiscono la stabilità del nostro baricentro. E quindi è stato visto, ormai scientificamente approvato, che una debolezza di questi gruppi muscolari aumenta gli infortuni, non solo alla colonna vertebrale ma anche agli arti inferiori. Non sono esercizi semplici? Sono esercizi molto complessi perché si deve creare un'attivazione sinergica di tutti questi gruppi muscolari. e sembrano semplici ma sono molto molto complessi e non vanno fatti ovviamente in una fase acuta e in una fase iniziale. Hanno grossa importanza nella prevenzione del mal di schione ma anche nella cura in una seconda fase. In realtà questo tipo di esercizi dovrebbero essere inseriti in tutti i programmi di attività sportiva, di tutte le attività sportive. Sì, quindi calcio... Calcio, fondamentalmente la maggior parte delle pubalgie del calciatore sono legate al fatto che non vengono fatti questo tipo di esercizi e ad una debolezza dei muscoli del core. Tra l'altro per chi volesse cimentarsi è chiaro che andranno sempre fatti sotto la guida di un personale sanitario o di un laureato in scienze motorie. Ma per chi non ha il tempo di andare in palestra, per chi non ha il tempo di andare in un centro riabilitativo è facile scaricare delle app sul proprio smartphone nei quali potrebbe iniziare a fare gli esercizi base di core stability. Sì, ma meglio se magari si imparano con un operatore e poi si ripetono a casa. Si ripetono a casa. Ecco, qui vediamo esercizi difficili. Sì, perché si parte con l'appoggio di tutti gli arti, dopodiché si può trovare un arto inferiore, un arto superiore e la difficoltà aumenta. Aumenta la difficoltà, aumenta l'intensità, può aumentare il tempo e la durata della posizione che si fa mantenere. Sono tutti esercizi che vengono fatti assolutamente senza macchinari. Generalmente possono essere utilizzate le swiss ball, quei palloni, quelle palle che spesso li troviamo nelle palestre, o eventualmente tavolette basculanti. Ma essenzialmente sono esercizi a corpo libero. Sì, ecco qui siamo di fronte ad un atleta, non intendiamo fare le stesse cose, però... No, però, voglio dire, col tempo i risultati si vedono e si può arrivare a fare tranquillamente questo tipo di esercizi. Sì. Ovviamente sempre con moderazione, perché chi casomai soffre di ernia del disco in una prima fase dovrà stare molto attento, perché fare questo tipo di attività, se viene fatta male, può essere anche molto dannosa. Sì. Sì.